Oggi siamo di nuovo a Vietri e precisamente a California Beach che ci ha ospitato per la seconda volta. Luigi, italiano che vive in Germania, ha voluto rendere memorabile la vacanza in Campania, chiedendo alla sua titta di sposarlo. Adesso vi lascio a una buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.